salve ragazze mie buonasera come state allora quello di oggi è un video che mi avete richiesto e intanto vi saluto voglio sapere sempre come state anche se noi ci si vede ogni mattina appunto per quello che riguarda i miei vlog e quindi bene o male vi sento sempre mi avete richiesto un get ready with me che vi ho caricato qualche giorno fa ora me ne avete richiesto un altro che riguarda pensate un po i miei parti allora questo è un tasto dolente perché il mio primo parto è stato un disastro perché intanto mamme all'ascolto sappiamo che il primo parto è come si dice un incontro al buio sappiamo che dovremo andare a soffrire però non sappiamo l'intensità della dell'appunto della sofferenza che dovremmo provare e quindi appunto io davvero non mi aspettavo una cosa del genere però c'è da dire che appunto il mio parto è stato disastroso perché il mio primo parto è stato disastroso perché mio figlio era bello grosso mio figlio era 4 kg 150 quindi pensate questo bambino io primipera e questo bambino così 4 kg 150 che sembrava già un bambino di un mese in ogni caso ho avuto devo dire una gravidanza tranquilla mi ricordo poi solamente che verso gli 8 9 mesi 7 mesi mi è venuta una fame da lupo quindi mangiavo non esageratamente però mangiavo e mi veniva una fame davvero incredibile insomma arrivo ai nove mesi faccio nove mesi poi la canonica settimana appunto i sette giorni di così di ritardo tra virgolette fino a quando mi ricovero il 6 giugno di sera e l'indomani partorisco con con le flebbo quindi con il parto diciamo così indotto e quindi mi vengono le doglie sempre più forti sempre più forti fino a quando mi portano in sala parto scusatemi io sono sempre quella dei capelli lo sapete quindi mi portano in sala parto e qui cominciano un po tutte quelle manovre che per noi sono sono brutte e quindi che cosa succede ammaccare forte forte la pancia per far uscire il bambino poi c'è quella cosa che adesso non mi viene come si chiama quando appunto episiotomia quando appunto fanno il taglio per favorire l'uscita del neonato quindi il taglio quindi episiotomia il discorso di ammaccare sempre la pancia io mi ricordo che era tremendo perché dicevo proprio al dottore non posso respirare perché proprio schiacciano ammaccano dove c'è proprio qua il diaframma insomma o la vicino quindi mi dicevo che dicevo appunto non posso respirare e mi ricordo davvero quella sala parto con un medico di qua un altro di qua una mia zia sorella di mio padre che era venuta diciamo in soccorso perché mia madre non se la sentiva di entrare in sala parto e che fecero sedere in una sedia vicino quindi non era accanto a me e mi ricordo questa faccia bianca preoccupata addolorata perché io ero una nipote di quelle appunto predilette lei quindi era in sala parto insomma mi vedeva giustamente soffrire quindi avevo una faccia che non vi dico e niente finalmente appunto nasce mio figlio marco 4 kg 150 e sento la mia ginecologa che dice 4 kg 150 un vitellino e infatti allora da quel momento poi non ricordo più nulla perché siccome mi hanno dato tantissimi tantissimi punti mi hanno fatto un'anestesia totale quindi anestesia totale e tantissimi punti diciamo il problema nel mio parto è stato anche il fatto che siccome io ho sempre avuto le vene varicose e difatti poi quando mio figlio aveva cinque mesi io mi sono operata e appunto queste vere varicose e continuavano oltre le gambe proprio anche all'interno diciamo appunto da dove passa il bambino quindi che cosa è successo che con il passaggio del bambino si sono rotte delle vene interne e quindi anche uscire le vene infatti la dottoressa mi disse che non sapeva quanti punti mi aveva dato perché poi a un certo punto non li ha più contati e quindi intanto io mi ricordo che quando mi hanno portato nella stanza non potevo neanche guardare il bambino perché non potevo aprire gli occhi perché evidentemente mi avevano fatto un'anestesia bella tosta e non riuscivo proprio ad aprire gli occhi per vedere il bambino e poi mi ricordo una gran sete 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 da morire e non potevo bere e mi prendevano in giro fra cinque minuti ora sta arrivando l'orario e poi bere quindi mi ricordo questa gran sete e poi mi ricordo la sera perché io ho partorito intorno al mezzogiorno e la sera poi intorno alle 20 è passata appunto la mia ginecologa e mi ha fatto alzare io so che appunto fanno alzare in modo che tutti gli organi si rimettono e così al suo posto io mi sono alzata e a momenti svenivo perché proprio mi giro la testa insomma che cosa è successo che naturalmente il bambino stava bene io non avevo nessun problema in particolare oltre appunto aver avuto tutti questi punti no e poi una cosa che quasi tutte le partorienti abbiamo le emorroidi perché purtroppo con gli sforzi poi appunto vengono le emorroidi quindi a parte le emorroidi io ho poi avuto un post operatorio non post operatorio un post parto molto lungo non riusciva a riprendermi perché mi sentivo debole quando mi abbassavo vedevo le lucioline e perché avevo perso molto sangue infatti prendevo un sacco di farmaci mia madre poveretta non so come facesse a darmi tutti quei farmaci a ricordarseli poi nel frattempo badava al neonato perché io ero proprio annullata completamente e poi appunto la cosa che è stata brutta il fatto che tutti questi punti che io avevo avuto interni ed esterni e mi hanno fatto stare quasi un mese quasi un mese a letto perché appena mi mettevo in piedi e stavo in piedi mi veniva un peso tremendo proprio avete capito dove quindi mi veniva un peso tremendo e la dottoressa mi diceva che erano i punti e che appunto poi questo disturbo sarebbe passato però io sono stata quasi un mese a non poter restare in piedi mi sedevo perché avevo questo gran peso proprio che non mi permetteva di stare in piedi comunque diciamo che è andata è andata quando sono rimasta incinta la seconda volta di alessia quando io ho preso il test mi sono messa a piangere perché avevo il terrore poi di partorire nuovamente proprio mi sono messa a piangere però memore del primo parto che era stato così disastroso perché appunto il bambino era molto grosso a quel punto io spaventando mi ho sempre mangiato poco specialmente negli ultimi mesi ricordo sempre che la sera mangiavo insalata di lattuga pomodoro e fette biscottate proprio mangiavo pochissimo perché avevo paura appunto che il bambino nascesse di nuovo grande per fortuna alessia è nata intanto alessia è nata 15 giorni prima perché alessia doveva nascere intorno al 20 giugno invece è nata il 7 giugno come marco se non lo sapete i miei figli sono nati lo stesso giorno il 7 giugno tutti e due a distanza di quattro anni quindi che cosa è successo che io mangiavo poco poi nel frattempo alessia è nata 15 giorni prima e alessia è nata 3 kg 350 quindi il parto è stato mille volte meglio pochissimi punti forse se me ne hanno dato 8 10 adesso non lo so appunto perché era più piccola poi era già il secondo parto e quindi io mi ricordo che poi appunto dopo due giorni uscita alla clinica stiedi poi a letto che so posso dire come una settimana insomma dopo 9 10 giorni ero già come dire è attiva in piedi che appunto badava alla bambina per quello che potevo fare badavo anche alla casa insomma mi sono ripresa molto 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 prima e molto meglio e quindi questi sono stati i miei due parti allora vi devo dire che nel primo il primo è stato disastroso però sono andata diciamo a questo appuntamento al buio così così si un po preoccupata però se non si passa non si capisce mai quello che appunto si vive mentre di alessia sono andata in clinica insomma i nove mesi della gravidanza e poi quando sono andate in clinica che la sera ho spezzato le acque sono andate in clinica ci sono andata col cuoricino piccolo piccolo così proprio perché sapevo che partorendo avrei avuto di nuovo insomma avrei dovuto di nuovo soffrire tutti questi dolori quindi proprio ci sono andata col cuoricino piccolo però vi devo dire appunto che è andata molto meglio poi tra l'altro per i punti e mi hanno fatto sempre un'anestesia però devo dire un pochino più leggera e quindi diciamo che il secondo parto è andato molto meglio e poi non se ne parlo più appunto di fare altri figli anche perché due va bene così un maschio e una femmina poi mia figlia alessia nei primi anni mi ha fatto fare nottate la notte non dormiva quindi io ero davvero davvero stanca e poi tra l'altro sempre per questo problema di varici sia il mio gino e la mia ginecologa sia l'angiologo che è appunto il chirurgo che mi ha operato quando marco aveva solamente cinque mesi mi dicevano appunto signora non faccia più figli perché appunto avevo questa situazione un po disastrosa che riguardava appunto queste vene varicose quindi signora non faccia più figli io non le volevo fare figuratevi tant'è che poi quando i miei figli avevano otto marco e quattro alessia perché appunto vi ripeto si toglievano quattro anni esatti esatti ho cominciato subito a girarmi per andare a lavorare perché una volta che marco andava in terza elementare a otto anni alessia aveva quattro anni ed era diventato un pochino più buona io ho cercato subito appunto di ricominciare a lavorare e niente e quindi questi sono stati ragazzi ai miei parti ormai c'è l'epidurale non si soffre più in quella maniera perché con l'epidurale appunto non si sente quasi niente cioè si sente poco dai non diciamo quasi niente io poi l'epidurale l'ho avuta fatta quando mi hanno tolto l'utero se cercate nei miei video menopausa chirurgica la mia esperienza il titolo è questo è appunto vi parlo di quando ho avuto asportato l'utero perché perché avevo il prolasso quindi l'utero rovinato abbassato proprio in seguito al primo parto che era stato disastroso quindi considerate che ancora a 50 anni io non ero in menopausa e ci sono arrivata appunto perché mi hanno asportato l'utero e quindi se volete sapere appunto anche di questa operazione in cui mi sono trovata benissimo mi hanno fatto l'epidurale devo dire veramente ne parlo sempre benissimo appunto potete andare indietro oppure andate su youtube e dove c'è la lente di ingrandimento cliccate e scrivete il titolo menopausa chirurgica la mia esperienza e vi spunta il mio video ok ragazze allora questo è stato un video richiesto da voi quindi io vi dico sempre appunto di chiedermi quello che volete io cercherò di accontentarvi mi era arrivata un'altra richiesta di vedere le mie camicie da notte da nonna di corredono ragazze non ne ho perché le camicie da notte se sono invecchiate le ho buttate e tra l'altro non avevo camicie da notte da nonna quindi mi dispiace per chi me l'ha chiesto questo video non ve lo posso fare comunque ragazze continuate a chiedermi quello che volete vedere quello che volete sapere vi ricordo di scrivermi in info box anche le domande per conoscerci meglio perché sapete che tra qualche giorno arriverò ai miei mille video e quindi volevo rispondere a un po di curiosità e da parte specialmente delle ultime nuove iscritte perché con le altre mi sembra che ci conosciamo abbastanza ok ragazzi allora a questo punto io vi saluto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale perché nel mio canale troverete una varietà di video onde corre ricette composizioni di fiori mise en place e video di pulizie quindi iscrivetevi sicuro mettete un like se i miei video vi piacciono e noi ci vediamo sempre al mattino con i blog quotidiani e io vi mando un bacio e sempre tanta positività vi mando un po di curiosità